Ciao ragazzi, sono il nuovo, dicevo, telecamera Si, si avvicinati, ancora Comunque, ciao, io sono il nuovo nel canale Comunque oggi GRD Call Galaxy non farà oggi video Né stasera, comunque io sono Ennard Il suo presentatore del canale Ciao E iscrivetevi tutto al suo canale Anche se stasera non fa video Ma vabbè, lasciate like a questo video Perché io sono il suo nuovo presentatore Del suo canale Si, ovviamente Ahahah Non ha creato l'account Ormai io sono il suo assistente Sì, il suo primo assistente Ciao E vabbè E noi ci vediamo in un prossimo video, vero? Si dice così, telecamera, no? Perfetto Vabbè, ciao Ciao